calandrino che altre volte la brigata aveva fatta ridere similmente questa volta la fece defatti del quale poscia che le donne si tacquero la reina impose a panfilo che dicesse il quale disse laudevoli donne il nome della nicolosa amata da calandrino ma nella memoria tornata una novella d'un'altra nicolosa la quale di raccontarvi mi piace perciò che in essa vedrete un subito avvedimento d'una buona donna avere un grande scandalo tolto via nel pian del bognone fu non a guari un buono uomo il quale aviandanti dava per l'ordenari mangiare e bere e come che povera persona fosse ed avesse piccola casa alcuna volta per un bisogno grande non ogni persona ma alcun conoscente albergava ora aveva costui una sua moglie assai bella femmina della quale aveva due figlioli e l'uno era una giovanetta bella e leggiadra d'età di 15 o di 16 anni che ancora marito non avea l'altro era un fanciul piccolino che ancora non aveva uno anno il quale la madre stessa allattava alla giovane aveva posti gli occhi addosso un giovanetto leggiadro e piacevole e gentile uomo della nostra città il quale molto usava per la contrada e focosamente l'amava ed ella che d'essere da un così fatto giovane amata forte si gloriava mentre di ritenerlo con piacevoli sembianti nel suo amor si sforzava di lui similmente si innamorò e più volte per grado di ciascuna delle parti avrebbe tale amore avuto effetto se pinuccio che così avea nome il giovane non avesse schifato il biasimo della giovane ed il suo ma pur di giorno in giorno moltiplicando l'ardore venne desidero a pinuccio di doversi pur con costei ritrovare e cadde gli nel pensiero di trovar modo di dovere col padre albergare avvisando siccome colui che la disposizione della casa della giovane sapeva che se questo facesse gli potrebbe venire fatto d'essere con lei senza vedersene persona che come nell'animo gli venne così senza indugio mandò ad effetto esso insieme con un suo fidato compagno chiamato adriano il quale questo amor sapeva tolti una sera al tardi due ronzini a vettura e postevi su due valigie forse piene di paglia di firenze uscirono e presa una loro volta sopra il pian di mugnon cavalcando pervennero essendo già notte e di quindi come se di romagna tornassero data la volta verso le case se ne vennero e dalla casa del buono uomo picchiarono il quale siccome colui che molto era dimestico di ciascuno aperse la porta prestamente al quale pinuccio disse vedi a te conviene stanotte albergarci noi ci credemmo dover poter entrare in firenze e non ci siamo sì saputi studiare che noi non siamo qui pure a così fatta ora come tu vedi giunti a cui l'oste rispose pinuccio tu sai bene come io sono agiato di poter così fatti uomini come voi siete albergare ma pur poiché questa ora va qui sopraggiunti né tempo c'è da poter andare altrove io valbergerò volentieri come io potrò e smontati adunque i due giovani e nell'alberghetto entrati primeramente loro ronzini adagiarono e appresso avendo ben seco portato da cena insieme con l'oste cenarono ora non avea l'oste che una cameretta assai piccola nella quale erano tre letticelli né sì come il meglio l'oste aveva saputo né vera per tutto ciò tanto di spazio rimaso essendone due dall'una delle facce della camera e il terzo di rincontro a quegli dall'altra che altro che strettamente andarvi si potesse di questi tre letti fece l'oste il men cattivo a conciar per i due compagni e fecegli coricare poi dopo alquanto non dormendo alcun di loro come che di dormire mostrassero fece l'oste nell'unde due che rimasi erano coricare la figliuola e nell'altro sentrò egli la donna sua la quale al lato del letto dove dormiva pose la culla nella quale il suo piccolo figlioletto teneva essendo le cose in questa guisa disposte e pinuccio avendo ogni cosa veduta dopo alquanto spazio parendoli che ogni uomo addormentato fosse pianamente si elevatosi se ne andò al letticello dove la giovane amata da lui si giaceva e misele si a giacere al lato dalla quale ancora che paurosamente facesse fu lietamente raccolto e con esso lei di quel piacere che più desideravano prendendosi stette e standosi così pinuccio con la giovane avvenne che una gatta fece certe cose cadere le quali la donna destatasi sentì perché levatasi temendo non fosse altro così al buio levatasi come era se ne andò là dove sentito aveva il rumore adriano che a ciò non aveva l'animo per avventura per alcuna opportunità natural si levò alla quale spedire andando trovò la culla postavi dalla donna e non potendo senza levarla oltre passare presala la levò del luogo dove era e posela al lato del letto dove esso dormiva e fornito quello perché levato sera e tornandosene senza della culla curarsi nel letto se ne entrò la donna avendo cerco trovato che quello che caduto era non era tal cosa non si curò ad altrimenti accendere l'ume per vederlo ma garrito alla gatta nella cameretta se ne tornò e a tentone direttamente al letto dove il marito dormiva se ne andò ma non trovandoli la culla disse seco stessa oi me cattiva me vedi quel che io faceva in fede dio che io me ne andava direttamente nel letto degli osti miei e fattasi un poco più avanti e trovata la culla in quello letto al quale ella era allato insieme con adriano si coricò credendosi col marito coricare adriano che ancora addormentato non era sentendo questo la ricevette bene e lietamente e senza fare altrimenti motto da una volta in su carico l'orzo con gran piacere della donna e così stando temendo pinuccio non in sonno con la sua giovane il sorprendesse avendone quello piacere preso che gli desiderava per tornare nel suo letto a dormire le si levò dal lato e la venendone trovando la culla credette quello esser quel dell'oste perché fattosi un poco più avanti insieme con l'oste si coricò il quale per la venuta di pinuccio si destò pinuccio credendosi essere allato adriano disse ben ti dico che mai si dolce cosa non fu come è la nicolosa al corpo di dio io ho avuto con lei maggior diletto che mai uomo avesse con femmina e dicoti che io sono andato da sei volte in suso in villa forse che io mi parti quinci l'oste udendo queste novelle non piacendogli troppo prima disse seco stesso che diavol fa costui qui poi più turbato che consigliato disse pinuccio la tua è stata una gran villania e non so perché tu mi tabbi a far questo ma per lo corpo di dio io te ne pagherò pinuccio che non era il più savio giovane del mondo avveggendosi del suo errore non ricorse a emendare come meglio avesse potuto ma disse di che mi pagherai e che mi potresti far tu la donna dell'oste che col marito si credeva essere disse adriano oimè o di gli osti nostri che hanno non so che parole insieme adriano ridendo disse lasciagli far che dio gli mette in malanno e si beve per troppo ieri sera la donna parendole aver udito il marito garriere udendo adriano incontanente conobbe là dove stata era e con cui perché come savia senza alcuna parola dire subitamente si levò e presa la culla del suo figlio letto come che punto lume nella camera non si vedesse per avviso la portò al lato al letto dove dormiva la figliola e con lei si coricò e quasi destra fosse per loro mor del marito il chiamò e domandò lo che parole e gli avesse compiduccio il marito rispose non ho di tu ciò che dice che ha fatto stanotte alla nicolosa la donna disse egli mente ben per la gola che con la nicolosa non è egli giacciuto che io mi cicoricai io in quel punto che io non ho mai poscia potuto dormire e tu sei una bestia che gli credi voi bevete tanto la sera che poscia sognate la notte andate in qua in là senza sentirvi e parvi far maraviglie e gli è gran peccato che voi non vi fiaccate il collo ma che fai gli costi pinuccio perché non si sta nel letto suo d'altra parte adriano leggendo che la donna saviamente la sua vergogna è quella della figliola ricopriva disse pinuccio io te l'ho detto cento volte che non tu non vada attorno che questo tuo vizio di levarti in sogno e di dire le favole che tu sogni per vere ti daranno una volta la malaventura torna qua che dio ti dia la malanotte l'oste udendo quello che la donna diceva e quello che diceva adriano cominciò a credere troppo bene che pinuccio sognasse perché presolo per la spalla non cominciò di menare a chiamare dicendo pinuccio destati torna al letto tuo pinuccio avendo raccolto ciò che detto sera cominciò a guisa d'uomo che sogna entrare in altri farnetichi di che l'oste faceva le maggiori risa del mondo alla fine pur sentendosi di menare fece sembiante di destarsi e chiamando adrian disse e gli ancora di che tu mi chiami adrian disse sì viene qua costui infingendosi e mostrandosi ben sonnacchioso al fine si levò dal lato all'oste e tornò si a letto con adriano e venuto il giorno e levatosi l'oste incominciò a ridere a farsi beffi di lui e dei suoi sogni e così d'uno in altro motto acconci i due giovani loro ronzini emesse le loro valigie e bevuto con l'oste rimontati a cavallo se ne vennero a firenze non meno contenti del modo in che la cosa avvenuta era che dello effetto stesso della cosa e poi appresso trovati altri modi pinuccio con la nicolosa si ritrovò la quale alla madre affermava lui fermamente aver sognato per la qualcosa la donna ricordandosi dell'abbracciar d'adriano sola seco diceva di aver vegliato l'abbracciar d'adriano l'abbracciar d'adriano